ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio a casa mia a casa mia perché una volta ogni tanto il buon giacomo muove il deretano e lo portiamo direttamente nell'antro del leone qua dentro nella tana però naturalmente può deve portare gli orologi lui perché sono qua anni né non è vero che non ce n'è ci sono però quelli interessanti diversi c'è gli a lui in negozio perché lui è il titolare ricordiamo perché sono titolare della gioielleria pasquale domenici di viareggio che è parte l'ufficiale del canale e apporta a proposito cosa facciamo dopo domani cosa facciamo ciao watch meeting bravo domenica no dopo domani 12 maggio vi aspetto alle 15 a viareggio nella zona antistante la gioielleria c'è la zona pedonale ci incontriamo facciamo raduno del canale poi all'interno ci sono gli amici di vulcane oris che è sponsor della manifestazione longin orologi calamari mi sembra di capire che ci viene a trovare anche gruppo ardito gruppo ardito sì poi c'è il buon pelizzari che è l'uomo di spettacolo testimonia lori saremo in tanti in tanti ci divertiremo insomma è un'occasione per stare tutti assieme vi aspettiamoli oggi invece abbiamo deciso di fare una puntata sugli orologi dimenticati una sorta di nicchia dell'orologeria cioè quegli orologi che sono nei cataloghi alla decima pagina e che nessuno calcola mai o proprio perlomeno in pochi sì è una puntata che abbiamo già fatto ovviamente esiste sempre ovviamente questo argomento che può poi può essere articolato con diversi criteri ovviamente di analisi e di valutazione certo 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 poi un po di diverso dal solito le novità del mese non le novità del mese sono quelle che escono questi qua sono quelli che sono già usciti ma che voi vi siete bevuti capito e quindi possiamo anche iniziare diciamo da adatto possiamo dire che spesso e volentieri non tutti gli orologi anche in fase di novità vengono scelti ovviamente per gestirli in campagna pubblicitaria di conseguenza vanno a riempire sì il catalogo di un marchio però non vengono poi promossi nella dovuta maniera la volta scorsa avevamo puntato l'attenzione sui mido la famiglia baroncelli che ovviamente è una famiglia molto classica molto vasta all'interno del catalogo mido ma mido diciamo che oggi la fa un po da padrona la linea diver che è quella della ocean star oggi non vi ho riportato quei mido che però potete continuare a cercare e visionare sul nostro sito sul sito ufficiale ovviamente del marchio ma vi ho portato ovviamente degli altri brand che hanno all'interno delle proprie famiglie prodotti che hanno vivono un pochino le solite vicissitudini allora vorrei partire ovviamente con la con oris marchio oris famiglia artelier che cos'è è una famiglia molto pulita molto elegante sono logi abbastanza classici tra l'altro il verde è già stato recensito anche da Davide l'avevamo ovviamente proposto come dress watch perché ha un orologio molto pulito molto elegante ovviamente questo ha reso un pochino più particolare da questo quadrante verde sì questo qua verde è quello che ho recensito anche io l'artelier bellino ecco c'è anche la versione nera di questo che secondo me è molto più elegante però per chi vuole un pochino qualcosa di appariscente ma tra virgolette qualcosa di differente il verde questo verde qua è particolare andate a vedere la mia recensione lì c'è tutto un selite sv200 che chiaramente è un 38 mm ottimo orologio invece questo qua io non lo conosco assolutamente un calendario completo calendario completo ah il calendario completo di Oris questo sì l'altro braccialato esiste la variante cinturinata comunque sì anche l'arteliere è una linea molto articolata che viene che passa un pochino in secondo piano perché? perché ovviamente tutta l'attenzione è sulla linea Diver che ovviamente da cui ne fa parte Aquis da cui ne fa parte A65 la seconda è tutta la Pilot di cui ne fanno parte i Big Crown con i cerbo volante i Ponte Airdate e possiamo andare avanti a citare ovviamente le varie tipologie di orologio e in ultima mandata ovviamente ci sono gli Artelier che però reputo una linea molto interessante tra l'altro con un punto prezzo veramente competitivo diciamo che sono quelli più classici Oris è famosa per gli orologi sportivi quelli classici magari anche a livello di marketing li comunica di meno magari in certi paesi lo fa sì bisogna aprire un pochino un'analisi un pochino più profonda di mercato allora la tendenza in questo momento da parte del mercato in generale sia sul prodotto economico sia sul prodotto di lusso sicché più costoso è tendente a promuovere e poi da parte vostra ovviamente acquistare orologi sportivi infatti tutte le famiglie sportive all'interno dei vari brand sono quelli che poi muovono più successo in questo momento io sono dell'opinione che l'orologio classico è l'orologio senza tempo che non sente ovviamente l'influenza delle mode non sente lo scorrere del tempo a livello ovviamente di estetica e purtroppo in questo momento tutta l'attenzione è rivolta a orologi un pochino più strutturati un pochino più sportivi anche senza un vero poi una vera necessità dal punto di vista pratico perché sappiamo tutti che difficilmente poi con gli orologi che voi acquistate andate a fare le immersioni ma vi limitate a prendere l'aperitivo al bar a fare serata e andare in ufficio usate ovviamente dei professionali come every day sì c'è da dire che il design di questi orologi classici non cambia mai nel tempo perché se ti prendi i diver degli anni 90 lo vedi chiaramente che lo stile è cambiato è fuori moda a parte certi capisaldi come può essere il submariner che è rimasto sempre quello però gli orologi sportivi sentono molto la moda del momento quelli classici è difficile che te prendi un orologio degli anni 90 classico, sottile, elegante e non vada bene oggi va bene oggi si adatta alla moda di oggi che poi per sfatare un po' quello che hai detto ora almeno per gli appassionati diciamo della coroncina sappiamo che è molto più apprezzata la vecchia grafica Rolex che tutte quelle nuove perché hanno una cassa più massiccia un po' più invasiva sul polso che tanti la criticano e diciamo la scansano e danno ovviamente priorità a quella vecchia un altro marchio ovviamente potremmo fare le solite similitudini con quello che abbiamo appena detto con Oris è un Login sicché stiamo parlando di un marchio molto molto conosciuto tra l'altro molto molto venduto che da poco ha avuto anche diciamo un rinnovo totale delle collezioni possiamo dire che è uno dei marchi del momento che sta andando meglio che ovviamente dove che lo avete anche voi ovviamente digerito meglio si può dire così questa si chiama come famiglia la Master Collection all'interno del catalogo Login è la collezione che ha più referenze a catalogo perché sviluppa tantissimi colori tantissime varianti tra braccialati e cinturinati diverse tipologie ovviamente di funzioni dal solo tempo alle versioni ovviamente con le fasi luna calendari completi con complicazione cronografica cronografi semplici veramente ce n'è di ogni riserve di carica di tutto e di più varie dimensioni varie colorazioni molto importante ovviamente è anche la collezione femminile che si sviluppa addirittura tra quarzi e meccaniche automatiche con diamanti senza diamanti cinturinati pelle braccialati però ovviamente all'interno ovviamente del mondo Login è quella un pochino meno venduta sto parlando ovviamente per quanto riguarda il territorio italiano perché oggi si dà priorità a tutta quella che è la collezione heritage ovviamente di cui fanno parte i legend diver e sono anche sportivi gli ultra cron cioè con tutte le novità che poi sono state aggiunte seconda famiglia seconda famiglia come vendibilità in Italia è tutta la famiglia Spirit perché ovviamente è un everyday veramente come si può dire robusto interneabile però voglio dire è un design che la Login ha azzeccato in pieno e voi ovviamente lo avete accolto con entusiasmo altra famiglia ovviamente vendutissima è la sportiva con tutti l'Hydro Conquest anche quella è una famiglia che vendiamo bene ultimamente poi si sono aggiunti i GMT un pochino più in disparte rimane la Master Collection non dico che è un prodotto che non si vende si vende un pochino meno in proporzione a tutte le altre famiglie che vi ho citato molto classica perché io la famiglia Master Collection la conosco la conoscevo sempre tenuta ad occhio assieme anche a quelli i record che secondo me sono dei belli orologi anche quelli e questo qua lo riconosco come facente parte della famiglia questo qua è un classico Master Collection ci sono anche solo tempo fatti così senza la complicazione Fasi Luna questo invece non l'ho mai visto questo qua è veramente particolare ragazzi questo che è un cronografo Fasi Luna solitamente te l'hai visto con il quadrante chiaro questa è una variante più nuova di colore e grigia è molto bella è proprio la lavorazione del quadrante che sembra metallica a lavorazione verticale satinatura verticale veramente particolare con gli indici in rilievo così sì sì no no si è aggiunta successivamente alla chiara e alla nera che erano dei Master di catalogo si è aggiunta la blu e ultimamente questa qui in grigio bellissimo sì molto bello e devo dire la verità non è un dress watch perché come puoi vedere io la posso definire una cassa ibrida cioè non è né classicissima né sportiva è uno sportivo elegante è uno sportivo elegante che però vi dà la possibilità di usarla ovviamente come everyday per l'ufficio per fare sport vi dà tutta una serie di di utilizzi che vi possono accompagnare durante tutte le fasi del giorno e che diametro sarebbe questo sarà un 42 questo è un 40 40 addirittura sì esiste in due versioni esiste in 42 e in 40 quindi questo qua è anche appetibile per la maggior parte molto appetibile molto appetibile se guardi per essere un orologio con tante funzioni perché ha il datario completo sì che giorno mese data cronografo fasi luna cioè veramente e più ha anche un contatore all'interno a 24 ore ma il datario ce l'ha lungo il bordo del allora il datario è lungo il bordo del quadrante viene indicato da quella lancetta con quella mezzaluna in cima sì sì no questo è veramente un orologio bellissimo ecco l'unico forse se vogliamo trovare un difetto che non è un difetto ma vogliamo essere ovviamente onesti fino in fondo è un orologio che in fase di lettura anche dell'ora ma anche semplicemente di tutte le funzioni e delle indicazioni che riporta dentro bisogna fare un po' attenzione perché essendoci molte informazioni può confondere un pochino diciamo la lettura immediata sì 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 però è un bel orologio stiamo tutti a pensare sempre al Big Eye e agli altri cronografi di Longines e questo qua rimane sempre indietro ok poi per ovviamente affrontare questo tema da un altro punto di vista degli orologi dimenticati ovviamente orologi dimenticati non esistono gli orologi dimenticati esistono degli orologi meno venduti per varie motivazioni vorrei parlare di Rado Rado che ultimamente diciamo il grande boom delle vendite è stato realizzato con dei rievocativi di due prodotti in particolare che erano il Golden Horse che tra l'altro siamo quasi in esaurimento di tiratura anche sui quadranti blu e verdi e il Capitan Cook allora hanno fatto un successo incredibile sono degli orologi che arrivano direttamente come design dagli anni 60 ovviamente riviste nelle fasi tecniche questo ovviamente ha dato grande visibilità al marchio Rado che è sempre stato un marchio molto di nicchia per scelte proprie per proprio natura del marchio perché ha sempre fatto ricerca sui materiali andando anche a ricercare dei design dovuti anche poi ai materiali scelti molto molto particolari questa ovviamente attenzione su Golden Horse e Capitan Cook ha lasciato un pochino in secondo piano quello che è la vera natura di Rado e ovviamente è l'utilizzo delle ceramiche questo qua è anche super scheletrato questo è un super scheletrato fa parte della linea Hyperchrome come vedete che ha sia la cassa che il bracciaio full ceramica ricordiamo che le ceramiche che utilizza Rado sono di loro produzione sono ceramiche che fondono a 1400 gradi con un procedimento molto complesso addirittura Rado è il leader nella produzione di questo materiale oggi riesce veramente a produrle in qualsiasi maniera di qualsiasi colore con qualsiasi finitura e ovviamente ascolta quando ho presentato un Rado in ceramica c'era una nei commenti che ha detto che lui ha lavorato alla Pozzi Ginori e non è vero che la ceramica comporta tanti scarti di lavorazione capito cioè ragazzi ma dipende se la ceramica la vuoi portare sul polso o ci vuoi cacare dentro però ragazzi quello è una piccola differenza sono dettagli questa qua non è la ceramica dei bidet ragazzi cioè non è che sono anche un materiale particolare da lavorare ci sono degli scarti di lavorazione quelli poi ricadono sul costo del pezzo singolo allora la verità è che questa è una ceramica itech scherzi a parte l'abbiamo già detto nell'ultimo video è una ceramica ovviamente che fonda a 1400 gradi lo usava anche lo shuttle come rivestimento esterno ovviamente garantisce non si graffia non si rompe ovviamente lo dico tra virgolette perché tutto si graffia e tutto si rompe perché ci sono materiali che poi possono essere il diamante graffia la ceramica sì ma addirittura anche materiale con materiale cioè se casca e prende di spigolo su un materiale analogo come può essere un pavimento ingresso che comunque sia una ceramica magari prende proprio nello spigolo sbagliato e si crepa e succede l'ho visto è già successo e poi dobbiamo correre a ripari e qui ne ho portato un altro ancora più particolare questo addirittura è un un true fill line la linea true si divide in due sottofamiglie che sono true e true fill line questo nello specifico è un true fill line cioè ultra sottile se guardate se lo guardate in sezione è spesso come una moneta è una linea dove l'arado si diverte anche a usare tutte le colorazioni immaginabili è stata fatta una linea le corbusier con nove colorazioni prese da il pantone di corbusier che era un noto architetto molto famoso nel mondo sono state replicate ovviamente sulla ceramica l'orologio visto in sezione è spesso come una moneta incredibile sì a causa ovviamente dello spessore sono tutti al quarzo la versione invece true senza fill line sono tutti meccanici e ovviamente fanno questa distinzione perché è lo spessore questo poi è il classico orologio di design perché praticamente la spessore della cassa è uguale identico a quello del bracciale se non inferiore quindi praticamente è come se fosse un unico pezzo di metallo che fascia il polso ovviamente è un prodotto al quarzo è un prodotto totalmente in ceramica e quello è il suo grande valore aggiunto è un prodotto che comunque sia ha passato i 2000 euro di listino è un prodotto di design ora voi mi direte eh ma è costoso è così bisogna valutare che cosa ti offre perché alla fine la ceramica come dicevo a causa degli scarti di produzione è molto costosa tra l'altro abbiamo visto ultimamente che un grande marchio possiamo fare anche il nome Tagheer è uscito con un prodotto colorato un rifacimento degli anni che erano 70 l'orologio di plastica quello che costa il kit come si chiama non so io non ho guardato ragazzi non so nemmeno come si chiama di nome proprio perché l'ho visto l'ho guardato e l'ho lasciato andare 1500 euro un orologio tutto di plastica al quarzo è un giocattolo per ricchi cioè ben vengano se c'è qualcuno che li compra ma non è per me per me non è non è da appassionato io ho visto un pochino le caratteristiche tecniche non ci sono e allora voglio dire se parliamo di prezzo perché ci vogliamo togliere uno sfizio vogliamo qualcosa al di fuori della norma cerchiamo almeno di dargli una motivazione cioè l'orologio di plastica l'hanno fatto la Maurice Lacroix la Maurice Lacroix si col Tide che perlomeno lì costava 6-7 quanto costa che era una plastica riciclata ovviamente fatta da questa azienda specializzata che era Tide era un quarzo anche quello lì l'unica particolarità è che montava il vetro zaffero cosa che io ai tempi ho anche contestato perché se mi vuoi fare un orologio di plastica e montaci sto vetro minerale che si risparmia quel par di 200 euro poi ok il gruppo Swatch l'ha fatto con il Moon Swatch il Moon Swatch anche lì possiamo un prezzo ancora più basso si ancora più basso ovviamente la Swatch se l'è potuto permettere perché comunque si ha cavalcato l'onda del Moon Swatch che è un orologio famoso di un marchio famoso loro fanno parte del solito gruppo e hanno potuto sfruttare diciamo questa occasione sono un orologio di plastica che se uno si vuole togliere uno sfizio al quarzo li prende si va dai 200 e qualcosa dello Swatch ai 500 600 700 del Maurizio Lacroix ai 1500 del Tagoya che diventa un giocatolo di lusso a quel punto lì perché 1500 ci prende anzi uno di questi orologi qua io poi gli altri possono fare quello che vogliono cos'è? l'ultimo rado ovviamente che mi sono portato dietro ma giusto per farvi vedere lui riporta ovviamente fa parte della famiglia Golden Capitan Cook scusate però ha unito i due fattori che in questo momento sono un pochino più diciamo seguiti da parte vostra e ovviamente il design di un orologio sportivo diver che è quella del Capitan Cook però con la fusione del materiale high tech che è la ceramica tra l'altro questa è una ceramica nera brush loro la chiamano così che vuol dire satinata e addirittura meccanica scheletratea con queste dorature l'orologio è una tiratura limitata stupendo ovviamente tutte queste caratteristiche poi dopo lo rendono un orologio anche abbastanza costoso è un orologio che non è stato tanto venduto perché come vi dicevo l'attenzione è tutta sulla versione acciaio rifacimento degli anni 60 con un prezzo ovviamente più accessibile siamo ai 2400 2500 euro contro addirittura i 5000 euro di questo però ecco per chi vuole cose veramente particolari non vi scordate di andare alla ricerca del prodotto l'orologio non deve essere un qualcosa che fa la moda in quel momento lì e voi ne dovete far parte l'orologio è qualcosa di vostro scegliete quello che vi piace curiosate cercate fateci le domande tartassate Davide con le mail che lui vi dirà che tutto quello che è particolare fa schifo perché lui compra sempre le solite cose però voi non lo ascoltate andate avanti per la vostra strada questo qua è completamente in ceramica opaca satinata quindi cioè non riflette la luce assolutamente anzi la assorbe ed è una particolarità rispetto a quelli d'acciaio da tenere in considerazione tutto anche il braciale che è particolarmente guardate a parte magari la cerniera interna che credo sarà in titanio o in acciaio insomma orologio particolare che deve essere capito più che altro perché scheletrato fino a un certo punto perché poi il quadrante ha dei ponti dei ponti che sono abbastanza visibili non è che si vede tutto il calibro completamente poi c'è anche una versione traspare con il quadrante trasparente sai perché non lo hanno scheletrato troppo scheletrare un orologio vuol dire alleggerire tantissimo la meccanica scavando i ponti per permettere di vedere ovviamente i ponti inferiori questo qui è un orologio sportivo 300 metri di impermeabilità si parte dal presupposto che sia un orologio soggetto a delle sollecitazioni alleggerire troppo la meccanica vorrebbe dire poi creargli danni continui diciamo che un orologio più è scheletrato più è delicato sì perché ci sono poi da mettere sul piatto da bilancia tanti fattori tanti fattori altro orologio sempre per seguire il solito il solito tema che è quello ovviamente di famiglie all'interno di marchi molto conosciuti ma che rimangono un pochino in secondo piano Pontos Pontos parliamo di Maurice Lacroix famiglia Pontos che oggi è divisa ovviamente tra orologi solo tempo cronografi e ultimamente si è inserito il diver rimangono un pochino in penombra perché perché ovviamente noi oggi parlando di Maurice Lacroix pensiamo subito a Icon che è l'orologio di punta che da qualche anno ovviamente sta facendo il buono e il cattivo tempo del marchio stesso l'Icon cronografo non aveva mai fatto no l'Icon cronografo esiste esiste in acciaio esiste in titanio ovviamente rispetto alla versione solo tempo è un pochino più invasiva un pochino più spessa un pochino più massiccia molto più grande di diametro e di conseguenza rimane un pochino meno venduta però se si dice Icon tutti vi svegliate ovviamente addrizzate le antenne perché lo conoscete tanti di voi lo hanno comprato e tanti di voi lo vorrebbero ancora comprare e allora mi sembra giusto dare un pochino di evidenza a questo prodotto che è il Pontus che tra l'altro è un bellissimo orologio forse per la tendenza di questo momento un pochino grande di dimensioni un 42 un 43 quante? mi sembra che sia un 44 addirittura non vorrei dire una cavolata ma perché ha anche un design abbastanza convenzionale canonico non è che esce fuori dagli stili particolarmente quindi è un orologio che può piacere a molti ma c'è anche da dire che ci sono anche tante altre orologiche hanno lo stesso design simile questo qua ha lo svantaggio di essere un pochino grande forse per quello che è dimenticato perché anche nella versione bianca così la sua leggibilità c'è sì poi per chi vuole ovviamente alleggerirlo un pochino esiste la versione col cinturino in pelle piuttosto che braccialato comunque si sta parlando di un orologio da 3.200 euro di listino che poi dopo ovviamente applicando un po' di promozione qualcosa c'è la possibilità di portarla addirittura sotto le 3.000 euro sicché è pienamente in linea con i prezzi di un cronografo e però è salita 500 automatico quindi siamo sempre in linea siamo in quel range di prezzo interessante e però diciamo è meno venduto rispetto alla famiglia Icon sempre per seguire ovviamente gli orologi dimenticati qui addirittura parliamo di marche che negli ultimi tempi hanno sviluppato un lavoro devo dire eccellente e parlo di alcuni orologi che pensavo di sviluppare un lavoro fuori dal normale e invece la vostra reazione nei confronti di questi prodotti è rimasta tiepida e cosa sarebbe tiepida sono due orologi che io reputo bomba erano due novità uscite ovviamente l'anno scorso Shantigraf Eberhard Shantigraf cronografo sto qua ho fatto la recensione anch'io si hai fatto la recensione anche te però io avevo detto allora il suo predecessore solo tempo ha fatto un successo incredibile questo qua no ho detto esce il cronografo con le solite dimensioni 41 mm 41 mm per un cronografo sono secondo me una dimensione eccezionale ho detto vabbè questo farà il diavolo a4 ne abbiamo venduti non vi dico che non li ho venduti non quanto avrei pensato allora ovviamente ma questa è un'interlocuzione che faccio anche a voi perché non vi piace penso di sapere perché perché ovviamente i cronografi se ne vende tanti con un punto prezzo molto basso oppure se ne vende altrettanti con un punto prezzo molto alto ah c'è diciamo un po' una terra di mezzo cioè o vedi nel primo era o vendi bravo cioè o si vende un bright ring uno zenith con ovviamente prezzi un hublò con prezzi molto ovviamente più consistenti si parla dei 10.000 euro 13.000 14.000 euro oppure si vende tutti quegli orologi che stanno al di sotto delle 3.000 euro e allora ovviamente ci buttiamo dentro Hamilton con tutti i vari intramatic con tutti anche le varie novità che sono usciti negli ultimi tempi possiamo mettere dentro abbiamo visto ora il Tissot il Piero 516 il 516 ha fatto un esplode ovviamente a un prezzo molto interessante 1.995 euro prezzo addirittura tanti di voi il bigai va anche il bigai della longina il bigai ovviamente va addirittura voi mi state chiedendo a tanto tempo un marchio che io ovviamente sto rimandando l'acquisto perché è un'azienda che ha una produzione troppo piccola poi lo so cosa succede lo prendo gli orologi non arrivano perché tanto la produzione è quella che è e poi voi dopo me la smenate perché l'orologio mi arriva perché mi fate il rimborso dell'acconto però così più si fa che marchio dico come si chiama nivada nivada cioè nivada io l'avevo già fatto l'impianto e poi dopo mi sono accorto 25 orologi acquistati l'azienda mi chiami ah c'ho i primi 5 orologi in spedizione ho detto scusa e gli altri no gli altri se ne parla tra 4 mesi 4 mesi quando io li ho caricati sul sito ho cominciato a vendervi poi chi ve lo dice a voi che l'azienda cioè io ve lo dico voi poi magari non mi credete mi cominciate a mettere recensioni negative a me allora tanti miei colleghi ho visto che ora lo stanno prendendo ai miei colleghi di voi non gliene frega niente delle recensioni negative che li fate voi non gliene frega niente tanto pagano le aziende che gli ripuliscono le recensioni perché è così se voi andate sul mio sito la recensione la potete lasciare su google e google sono tutte naturali non le posso io togliere o cancellare sono lì mi volete offendere vi volete lamentare mi volete promuovere dare un feedback positivo tutto quello che vedete sulla mia azienda è lì scritto compreso le mie risposte quando poi mi fate girare il belino vabbè però da quello che ho capito stai prendendo la prossima volta vedremo anche dei marchi economici nuovi sì allora abbiamo ovviamente pensato all'inserimento di alcuni marchi un pochino con una fascia prezzo un pochino più interessante non so se vogliamo spoilerare qualcosa ora faremo una trasmissione facciamo un video poi dedicato facciamo un video possiamo dire che un brand è giapponese uno è tedesco allora sì bravi allora Davide mi ha detto tante volte perché non inserivo un marchio così la risposta era questa per potervi offrire un prezzo ovviamente interessante avevamo calcolato che non potevamo andare al di sotto di quello che trovate già sul mercato perché calcolando le spedizioni i vari pagamenti tramite paypal carte di credito che ovviamente per noi hanno un costo ci siamo accorti che si andava sotto quello che è il guadagno effettivo sul singolo orologio anche perché noi usiamo solo corrieri con una qualità molto alta perché ovviamente abbiamo orologi di tutte le cifre e ci costa la spedizione ci costa mediamente di più rispetto a altri che spediscono con le poste che spediscono quei corrieri convenzionati con le poste che sono spedizioni a basso costo siccome noi vogliamo darvi il miglior servizio possibile abbiamo fatto una selezione dei corrieri che hanno un certo tipo di lavoro e hanno anche un certo tipo di costo però allora io però mi sono detto perché non seguirvi in tutto e per tutto anche quando avete bisogno di comprare l'orologio un pochino più accessibile o perché non servire tutta quella clientela che magari segue Davide ci segue ovviamente in tutte le nostre trasmissioni e ovviamente non ha magari la capacità di spendere cifre più alte magari rispetto a quelle che possono essere le 250 alle 300 euro abbiamo deciso di fare questo inserimento di prodotto poi ditemi anche voi da casa che cosa ne pensate e questo ci dà la possibilità come abbiamo sempre fatto noi non facciamo recensioni a tutti i ologi o almeno Davide lo fa ma quando siamo in negozio da me facciamo recensioni solo di orologi che trattiamo direttamente mi sembra giusto non è che possiamo parlare di quello che poi non conosciamo neanche che viene venduto dagli altri negozianti allora ovviamente poi cominceremo a fare le recensioni dettagliate anche di quel tipo di prodotto per poi dare anche un servizio a un'altra tipologia di clientela due marchi economici che però fanno anche orologi costosi non sono economici hanno la linea bassa e la linea alta e la linea alta ovviamente noi come abbiamo sempre fatto la tratteremo tutta e poi voi dopo ovviamente ci direte ci darete i vostri il feedback questo qua cos'è? questo sempre per continuare con quella che era l'idea la falsa riga del prezzo è quella lì la falsa riga del prezzo è quella dell'Eberhard anche di questo qua ha fatto la recensione questo qui è un Oris 65 cronografo 40 mm di diametro cioè ragazzi diametro eccezionale diver va bene è un 100 metri con corona a vite però con 100 metri ragazzi potete affogare tranquillamente e anche questo è un orologio che visto il successo che aveva avuto la sua versione solo tempo ho detto ma un crono comunque sia Oris ben realizzato bello di cui sappiamo che la famiglia è apprezzata da tutti i nostri follo e dagli appassionati del mondo dell'orologeria gli diamo un cronografo comunque sia con 4000 euro poi sapete che i prezzi sono elastici pensavo di fare vendite a non finire non è stato così è strano è strano perché ora vabbè parliamo del prezzo il prezzo potrebbe sembrare in assoluto relativamente alto 4000 euro sono 4000 euro però a me viene in mente per esempio oggi proprio l'Oris Diver 65 eccolo qua questo qua io questo qua l'ho preso da te gennaio 2020 l'ho pagato dico quanto l'ho pagato 1200 ho pagato ora se io vado su crono 24 e guardo quanto mi vendono usato mi vendono a 1500 qualcosa quindi comprare un orologio anche di un marchio che non è nell'hype non ci rimetti mai no no se ovviamente tenetelo come come si deve poi deve passare il tempo perché nel momento in cui io esco dalla gioielleria ho già perso il 30% del valore se lo voglio vendere dopo 6 mesi ci perdo se lo tieni qualche anno e non perdo non perdo il valore se sull'orologio avete ottenuto un pochino di sconto sicché gli avete già un po' ridimensionato il prezzo dovete però sapere che purtroppo in Italia abbiamo un IVA esposta molto alta cioè l'IVA non è un guadagno mio non è un guadagno di nessuno è solo una tassa addirittura sul consumatore finale purtroppo su di voi è il 22% come succede in tutti i settori come uscite dal negozio quel 22% lì l'avete perso e sicché se però avete quella pazienza godendovi anche il prodotto che avete comprato perché si parte dal presupposto che lo compriate per un gusto proprio per portarlo per sfruttarlo e lo lasciate maturare qualche anno solo per un aumento naturale del listino l'orologio cioè non ci perdi 1200-1500 mettici l'inflazione tutto quello che vuoi non ci perdo non ci perdo a vendere ho sempre un valore residuo alla fine e questo a volte è quando fanno le domande l'orologio da investimento l'investimento in finanza è un orizzonte temporale lungo per investimento si intende una cosa che 10-15-20 anni a volte si confonde l'investimento con la speculazione cosa è la speculazione? è comprare una cosa a listino oggi e rivenderla dopo tre giorni a prezzo maggiore di listino e questa poi crea la bolla perché è una cosa che si somma che si somma finché poi scoppia questa è la speculazione l'investimento a lungo termine poi c'è un'altra cosa differente che quella dei commercianti loro invece comprano sotto listino per poi vendere a prezzo di mercato gli usati capito? uno lo compra io ho perso la mia speculazione devo comprare 10 box delle carte di One Piece non l'ho fatto abbiamo scoperto che speculi su quel mercato ma no non l'ho fatto mi mordo le mani sono venuto qui alla fiera di Carrara che c'era il comics se sapessi quanto la voi potete rivendere è perso l'occasione però il fatto del commercio poi rientra anche nella tua parte dell'usato che ritiri te lo ritiri sotto al prezzo di mercato per vendere al prezzo di mercato chi specula lo prende al prezzo di mercato per venderlo sopra chi vuole investire lo prende oggi al prezzo di mercato e fra 10 15 anni lo rivende leggermente sopra ma è normale poi calcolate che ora vi ho fatto l'esempio stupido delle carte se io avessi comprato quei box avrei dovuto accantonarli sigillati non mi sarei neanche potuto godere il gioco la parte diciamo divertente del prodotto qui ovviamente comprate l'orologio compratelo a gusto vostro e godetevelo mettetevelo sul polso fateli fare la sua storia esattamente così questo è l'ultimo ovviamente dei cronografi visto che siamo ancora in quel segmento questo costa un pochino meno forse questo costa un pochino meno ora non tantissimo siamo intorno ai 3500 euro è un orologio che è fatto in maniera stupenda è un Frederic Costant highlife cronografo tra l'altro questo qui col panda così prima era c'era il panda con i contatori blu questa è l'ultima versione panda con i contatori neri sono tutti in tiratura limitata la Frederic Costante vi ci dà anche il doppio cinturino aggiuntivo perché hanno lo sgancio rapido a poterlo intercambiare no questo è un pochino più grande dovrebbe essere un 40 41 41 se non sbaglio e l'orologio è stupendo rientra ancora in quel segmento l'orogeria che sta andando ancora di moda con il bracciale integrato diciamo sullo stile sulla falsa riga di tutti quei prodotti di stile gentiano però Frederic Costante ha trovato la sua strada particolare non è che assomiglia che mi puoi dire che assomiglia a qualche no 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 assolutamente perché ha questa cassa a cuscino con bracciale integrato a me è un orologio che fa impazzire punto prezzo secondo me eccezionale per quello che offre è un orologio sì li abbiamo venduti però non non è sulla bocca di tutti non è sulla bocca di tutti questo mi dispiace tra l'altro oggi Federico Costante ha intrapreso una strada interessante per quanto riguarda voi collezionisti per coloro che vogliono accedere diciamo a prodotti molto molto particolari di meccaniche di lusso a prezzi in proporzione a quel tipo di prodotto molto molto interessanti Federico Costante ovviamente oggi sta lanciando tutti i orologi che vanno dai 5.000 ai 30.000 euro si sta spingendo anche su quello sì perché ovviamente turbiona non finire complicazioni di vario genere secondo te vale la pena ci saranno mercati che accettano questi prezzi per un Federico Costante ci saranno allora ci sono mercati ci sono clienti che accettano questa tipologia di prodotto secondo me per fare questo tipo di operazione si dovrebbe fare ripulizia verso il basso che cosa intendo intanto eliminare tante referenze economiche perché secondo me un marchio o fa il lusso diciamo o fa l'economico lo fa che seco però puoi stare sì lo fa seco però ultimamente se guardiamo il punto prezzo basso e il punto prezzo alto si stanno si stanno avvicinando e allora che cosa è successo mi sono arrivati in negozio i nuovi seco bellissimi bellissimi siamo alle soglie 500 euro allora si parla di seco 5 se fino a qualche anno fa pensavamo a seco 5 eravamo a 290 euro ma sì ma erano anche sotto i 100 li trovavi in giro bravo sì che siamo ormai alle soglie dei 500 euro sono migliorati lasciamo perdere la famiglia lx che anche la secola sta piano piano abbandonando perché è molto molto costosa se guardiamo il prezzo delle ultime uscite di quelli che hanno i calibri un pochino più interessanti siamo sotto i 4000 sicché come vedete qualche anno fa erano usciti anche i pezzi a 6.000 7.000 euro sembrava che la tendenza fosse a crescere stiamo escludendo le edizioni limitate che quelle costano di più di solito no no ora qui dopo ho un prodotto che vi farò vedere farò vedere ora facciamo vedere ora cos'è SLA 055 è una limite edition di un rifascimento di una vecchia cassa degli anni 60 veramente monta non 8L 8L no 8R 8L35 che è il top che può montare Seiko senza dover andare ovviamente alle meccaniche di Gran Seiko questo qua lo genito anch'io non so se è ricensito proprio questo diciamo questo qui in questo momento è l'orologio più costoso di Seiko si parla di 4.600 euro allora anche qui abbiamo fatto vendite limitate sugli SLA 035 che non sono altro che i Marine Master orologio che fino a poco tempo fa era un orologio tra i più prestigiosi di Seiko devo dire la verità ne abbiamo venduti tanti tra uno SLA 035 e uno SLA 055 c'è l'abisso cioè questo è un orologio che sul polso è fenomenale si porta benissimo la differenza lo SLA 035 aveva la cassa monoblocco che lo rendeva un pochino più spesso rispetto a questo questo è la classica cassa con il fondello a vite lo SLA 035 era un 300 metri questo è un 200 ovviamente si perde un pochino a livello impermeabilità ma partendo col presupposto che difficilmente lo portate a 80 metri di profondità va più che bene i 200 metri che gli sono stati assegnati permettono di avere una vestibilità sul polso totalmente diversa da Mario Master ho recensito il nuovo Mario Master e quello con la cassa è più piccolo è più piccolo questo è leggermente più grande però secondo me questo qui ha un livello di finiture eccezionale tra l'altro ha una limited edition viene venduta nel cofanetto col doppio cinturino in tessuto però a 4600 euro vedo che tanti di voi fanno fatica tra le tante limite che sono uscite che gli appassionati di Seiko corrono per acquistare questa è quella che forse ha fatto meno successo e poi stanno cominciando a mettere tutti la data tra ore 4 e ore 5 questa per lasciare libero l'indice ore 3 che fa parte delle nuove specifiche ISO standard bello è anche morbido il cinturino sì l'orologio è fantastico è un orologio che diciamo voi avete digerito male e poi magari vi chiedo anche perché è solo una questione di prezzo o non vi è piaciuto l'orologio ma lanciamola questa domanda altro orologio per esempio che sul catalogo ZIN è già esaurito se voi andate sul sito ZIN ve lo dà già come esaurito il t50 gold bronze praticamente questo qua è realizzato in una lega speciale che è composta da bronzo oro più altri in piccole percentuali altri metalli è anche abbastanza costoso infatti quanto è siamo anche qui intorno ai 5000 euro 4980 sì che ecco siamo alle solide 5000 euro gold bronze il gold bronze è una lega che se vogliamo l'ha fatta anche blanpen ovviamente con più quantità di oro al suo interno si parla anche di un orologio che oggi è prezzato a 36.000 euro ovviamente è un blanpen non lo possiamo paragonare però ovviamente la ricercatezza di un materiale nuovo il bronzo diciamo è il materiale che tante aziende hanno deciso di sfruttare sui propri orologi con l'aggiunta di piccole particelle di argento e di oro lo si rende più resistente meno soggetto all'ossidazione questo era un po' il ovviamente è poi dopo una lega che porta il prezzo leggermente più alto però a prezzi alti su ZIN siamo abituati ai 3.000 ai 4.000 se prendiamo gli U1 gli U50 comunque sia non sono molto lontano forse è proprio un materiale a fregare è una sorta di oro questo magari non ce lo vedono non lo so anche questo è un orologio che non ha fatto il successo che mi sarei aspettato forse è una condizione prettamente italiana perché io ho visto che comunque sia la ZIN la sua tiratura l'ha venduta tutta sicché ci sono delle zone del mondo dove è stato interpretato e recepito diversamente e non è nemmeno da dire che è un orologio adatto agli asiatici agli arabi o a chi vuole fare è sobrio come orologio pur essendo in oro e bronzo è sobrio non è sfarzoso allora sempre parlando di Seiko visto che abbiamo appena citato questo è famoso è una linea molto vasta che tra l'altro se non mi sbaglio abbiamo anche recensito più volte in diverse soluzioni Seiko Presage nella versione nella famiglia Presage questo tra l'altro è quello un pochino più sportivo ecco se voi mi dite un orologio everyday a me mi viene in mente lui un orologio da mettere sul polso mattina pomeriggio e sera qualsiasi tipo di abbigliamento va bene tra l'altro un orologio questa è una versione solo tempo con un accostamento di colore anche un pochino particolare un beige con lunetta bordeaux però esiste in grigio in nero esiste con la riserva di carica esiste con il secondo decentrato cioè è una linea molto vasta che però ne ho venduti tanti premetto ma rispetto ovviamente alla alla Prospex o se vogliamo dire anche alla stessa 6.5 che tra l'altro non ha un punto prezzo molto distante da questo 5.40 questo cioè voglio dire 5.40 di listino è veramente interessante come prodotto vi viene a costare quasi meno di un 6.5 questo cioè il 6.5 oggi se prendiamo un GMT 6.5 che è un orologio è calibro lo stesso è 4R35 è 4R35 cioè alla fine oggi siamo sui 300 e qualcosa se prendiamo ovviamente il GMT del 6.5 siamo a 4.90 però il bracciale per esempio questo qua è meglio di un 6.5 rispetto a un 6.5 standard sì non gli ultimi non quelli che presenteremo a breve infatti il prezzo dove è andato a finire è 500 tanto ragazzi la qualità va pagata bello allora il presage questo qua è crema più che grigio che tetto grigio è crema no c'è anche grigio no no questo è un con la ghieretta bordeaux così lunetta perché è fissa questa è una lunetta fissa e i numeri sopra non è perché è un diver che devi fare i tempi è semplicemente il rimando ai minuti che sono poi sul quadrante per leggere meglio l'orario veniva utilizzato perché in tanti si sono lamentati ma la ghiera è fissa ma non è una ghiera questa è una lunetta che riporta i minuti è da tempo in memoria che fanno gli orologi così con con la ghiera è fissa e con i numeri dei minuti e sto qua perché è dimenticato? questo è dimenticato perché lui a tutti gli effetti è l'orologio meno venduto di doxa meno venduto di doxa si ha detto no ne esiste uno meno venduto di lui ma si capisce perché che sono i carbon perché hanno una cassa in carbon e sono molto costosi all'interno del catalogo doxa il 1500 perché lui è un 1500 che vuol dire 1500 metri di impermeabilità con valvola per l'espulsione dell'elio è l'orologio più grande che ha in catalogo doxa è quello più professionale sì perché praticamente è un 45 mm di diametro ma non vi soffermate al diametro perché la doxa ha un rapporto diametro lag to lag molto particolare questo qui è un 45 per 47 sicché un 47 il lag to lag rientra ancora in una portabilità ottima non è solo il lag to lag è anche il fatto che il quadrante è piccolo rispetto alla cassa infatti il sub 200 da 39 il 200 t è per me piccolo pur essendo da 39 invece il legend diver da 39 mi sta bene è il classico sportivone tool watch sì perde il classico bracciale a chicco di riso rievocativo proprio degli anni 60 ha questa maglia un pochino più corposa un pochino più schiacciata io lo trovo come un orologio professionale fantastico purtroppo voi a casa non lo valutate in una solita maniera questo lo rende l'orologio meno venduto di doxa l'orologio meno venduto di doxa questa è una curiosità che non sapevo eppure è bello è un tool watch di quelli anche pesante sì io devo dire a vita se devo comprare un orologio grande un orologio che poi manifesti tutta la sua sportività tutta la sua resistenza mi piace consistente lo voglio sentire sul polso il titanio fatico io il titanio e poi ecco un orologio che qui non abbiamo dimenticato solo la famiglia o la tipologia di orologio qui si è dimenticata totalmente la marca ma tornerà tornerà vedrai sì ma non per colpa vostra per colpa dell'azienda che è una multinazionale cinese ha fatto un investimento e poi si è totalmente disinteressata dell'investimento molto probabilmente l'orologeria è un segmento dove se non sviluppi grandi numeri non ti dà molte soddisfazioni a livello economico queste multinazionali che ovviamente hanno investimenti su tante tipologie di prodotto la farmaceutica autostrade bimbo bombo chi più ce n'ha più ce ne metta ha visto sì che la mia speranza è che questa multinazionale ceda il marchio Eterna perché è un marchio con una storicità incredibile con una capacità produttiva incredibile lo ceda a qualcuno che abbia voglia di dedicarci tempo investimenti e la riporti ovviamente agli antichi splendori che ha sempre avuto per assurdo è più potrebbe essere più interessante quando un'azienda viene rilevata da qualcuno di medio piccolo piuttosto che di grande mi viene in mente per esempio Favre Luba che fa parte del gruppo Tata ma Tata non è quello che fa solo gli automobili anche loro fanno è stata venduta a chi è venduta? è stata venduta a un gruppo a un nuovo investitore e tra l'altro sto ancora aspettando che mi contattino per capire che cosa vogliono fare del marchio gli ho mandato svariate mail non abbiamo mai una risposta anche qui io spero che siano lì a cercare di riorganizzare il marchio di tirare fuori qualcosa di nuovo di fare investimenti a livello comunicativo vediamo che cosa ne verrà fuori comunque questo nello specifico era un heritage 1948 ne abbiamo ancora qualcuno in casa tra l'altro offriamo un prezzo veramente vantaggioso rispetto al suo prezzo di listino secondo me è un dress watch che vale la pena acquistare e tenere lì perché oggi a questi prezzi qui con questa qualità produttiva con questi spessori veramente troviamo veramente veramente poco l'ho detto anche altre volte se ora di Eterna si sente parlare poco non significa che morirà che scomparirà anzi è il momento proprio quello nell'investimento nel momento in cui una cosa verso il basso va acquistata quindi uno si prende un bello Eterna e poi tanto fra qualche mese fra qualche anno risorgerà sicuramente e te avrai l'orologio Eterna che gli altri pagano 5, 6, 7, 8 mila euro te lo dico io ok aspettiamo tutti i commenti ovviamente in base a questa questa argomentazione che abbiamo sviluppato nella puntata soprattutto aspettiamo anche i commenti relativi ovviamente all'acquisizione di marchi più accessibili dateci le vostre opinioni invece sono un paio di marchi uno è tedesco e uno è giapponese l'abbiamo detto prossimamente dopo il watch meeting andiamo facciamo un vedetto vi faccio vedere tutti gli orologini che c'è al bonjac come dentro così potete fare più un'idea no tra l'altro abbiamo già due marchi nuovi che vi presenteremo già al watch meeting le inseriremo nelle nostre vetrine sicché chi viene al watch meeting chi ovviamente è avvantaggiato si è smenato per raggiungerci fino a Viareggio e quelle centinaia di persone che ci saranno li vedono subito gli altri attendono un attimino che facciamo il videino guardiamo i modelli non aspettavamo mille persone che mille persone quante polo hai fatto eh quante polo hai fatto trecento e allora cosa aspetti mille persone cosa gli diamo agli altri ma io a chi viene se non ce la fa prenderglia gliele faccio ristampare boh si va da spese grazie vabbè ragazzi noi dobbiamo vedere gli orologini e ve li abbiamo fatti vedere cioè di più non possiamo fare io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua ringrazio l'amico Giacomo che è venuto a trovarmi ora questi qua me li lascio tutti qua così io me li spupazzo non è vero se le vende tutti anche perché parte di questi li ho già recensiti quindi non saprei nemmeno quale scegliere da recensire vorrei salutare l'amico Piero che in questa puntata non era presente salutiamo lui e ovviamente ha avuto un piccolo problema familiare salutiamo lui e Giovanni ciao Giovanni a posto tutto a posto vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube love a posto